Grazie a tutti. La rilevanza della SEPA è dublice. Essa da un lato rafforza l'integrazione e la concorrenza nel mercato dei pagamenti al dettaglio. Dall'altra promuove un sistema dei pagamenti efficiente e affidabile. Si tratta di obiettivi che accomunano le autorità e il sistema produttivo. Il problema della SEPA nasce in una prospettiva di recupero di efficienza e di recupero di benefici in termini di costi. L'obiettivo strategico della SEPA voleva incidere e vuole incidere la SEPA sulla struttura del sistema dei pagamenti in Europa, proprio per superarne le frammentazioni. L'obiettivo è favorire la diffusione degli strumenti di pagamento elettronici, però vuole incidere sulle condizioni operative per affrontare il tema dei costi, in un obiettivo più strategico che era quello del mercato unico. Abbiamo qui riuniti i principali rappresentanti delle varie categorie di enti coinvolti nell'attuazione della SEPA. Abbiamo l'ingegner Ragosa dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci porterà la testimonianza della pubblica amministrazione. Il dottor Sabatini, rappresentante dell'ABI, porterà il punto di vista delle banche. E poi abbiamo due grandi imprese italiane, Telecom e Pirelli. Spingeremo la pubblica amministrazione in questo senso e io sono convinto che il tema degli incassi, unito al tema anche della fatturazione elettronica, che è il pagamento che la pubblica amministrazione ha con le imprese, sicuramente miglioreranno la trasparenza e l'efficacia e ammoderneranno fondamentalmente anche il sistema pubblico. Non parlo ancora di internet, ma penso che ne parleremo dopo. Grazie. Due battute sui vantaggi. Ricordavo, l'adeguamento alla SEPA è un pezzo di un processo di adeguamento infrastrutturale del Paese a un mondo più moderno, più efficace, più efficiente, quindi è uno degli strumenti nel settore dei pagamenti per recuperare efficienza e produttività. SEPA consente oggettivamente l'integrazione spinta tra tutti gli operatori, la lavorazione in state-to-processing, quindi senza intervento umano, totalmente automatica, di tutte le operazioni di incasso e pagamento. Questo però richiede che i sistemi di tutti gli operatori siano perfettamente allineati, perfettamente parametrati e in questa fase di migrazione stiamo rilevando che, e questo può dire anche un buon consiglio agli operatori che ancora non si sono indirizzati verso la migrazione dell'XML, è assolutamente opportuno testare sul campo, non con i soliti test integrati che poi alla fine fanno molta fatica ad essere realizzati, ma con le proprie controparti sviluppare dei test su partite vere, su incassi e pagamenti veri. E allora SEPA che cosa ha rappresentato per noi? Ha rappresentato una splendida opportunità per rimettere mano al nostro modello, che avevamo sedimentato in questi anni, e per rimaneggiarlo completamente e rifare completamente il nostro sistema IT, sostanzialmente l'infrastruttura tecnologica sulla quale il modello si basava, e naturalmente potenziarlo. Che cosa dobbiamo ancora fare? Uno dei grandi temi su cui noi stiamo lavorando anche come agenzia del digitale, è quello di semplificare la frammentazione della pubblica amministrazione. Oggi abbiamo circa 10-15 mila punti da cui eroghiamo i servizi, li dobbiamo ridurre. Non possiamo, pensando a questo, naturalmente, non ridurre, non semplificare il sistema pubblico. Ed è un lavoro che va fatto in contemporanea, cioè man mano che noi avanziamo con questi strumenti, dobbiamo semplificare anche il sistema pubblico per metterlo, come si suol dire, sotto controllo, ma renderlo anche più efficace e più semplice relativamente all'accesso dei cittadini. Venendo al breve termine, la SEPA è sicuramente un momento di cambiamento importante, è una rivoluzione, e quindi una rivoluzione richiede, nella fase successiva all'avvio, un attento monitoraggio. Quindi credo che la prima cosa da fare sarà il monitoraggio nei suoi processi di assestamento e anche la prontezza per realizzare quegli eventuali interventi correttivi che normalmente sono richiesti da un cambiamento così profondo. Diciamo che l'impresa si attende innovazione, si attende innovazione da parte degli operatori, si attende che vengano offerti servizi innovativi che oggi non ci sono sul mercato, servizi che magari ci sono ma ci sono assolutamente in alcuni paesi, servizi che sono offerti solo alle grandissime imprese ma non riescono ad arrivare alle piccole realtà, alle piccole e medie imprese, alle micro imprese, alle piccole pubbliche amministrazioni. Ci si aspetta che questo venga fatto in un'ottica di standardizzazione e non di frammentazione perché è anche vero che noi abbiamo tutti questi nuovi operatori che operano sul mercato, è altrettanto vero che c'è un'esigenza assoluta di standardizzare tutto ciò che sta al di sotto dell'interfaccia con il cliente e anche all'inizio dell'operazione di pagamento. Fatturazione elettronica, tutta la vita fatturazione elettronica, io credo moltissimo a questo avvio del progetto della fatturazione elettronica con la pubblica amministrazione anche se il mio gruppo non è molto toccato in verità perché noi vendiamo direttamente alla pubblica amministrazione peanuts rispetto al totale dei nostri volumi. Cos'altro dire? Dovremmo lavorare tantissimo e come italiani non dovremmo sentirci inferiori. Io ho tratto da questo secondo giro di interventi un auspicio di standardizzazione ulteriore è un auspicio di eliminazione delle residue differenze nazionali che ancora sopravvivono sotto forma di servizi addizionali localizzati.